allora ricapitoliamo un po oggi non facciamo cosa alla guerre stellari quelle erano molto belle l'altra volta se non l'avete vista sta ancora in pagina qui in twitch e comunque stiamo caricando tutte le puntate regolarmente sul nostro canale youtube trovate tutti i nostri contatti ovviamente in chat postati dai nostri fantastici mod che non ringrazio mai abbastanza per tutto il prezioso lavoro che stanno facendo dove siamo siamo nel dicembre mi pare sì siamo nel dicembre del 49 avanti cristo è passato il primo anno di guerra civile una guerra civile iniziata all'inizio del di gennaio in pieno inverno con il passaggio di un fiume il rubicone un luogo che è diventato un simbolo per tutti noi quando si dice appunto varcare il rubicone il dado e tratto ne abbiamo parlato anche nella prima puntata questo gesto così simbolico ci ha accompagnato nella discesa di cesare tra le terre italiche nell'assedio di corfinio mentre l'infimo pompeo ma io non sono di parte chiaramente fuggiva infimamente prima in campagna e poi in in puglia per imbarcarsi alla fine verso le terre d'oriente verso l'adriatico orientale e cesare arrivava tanto così dal catturare il suo nemico e dal chiudere quell'anno stesso la guerra civile questo non succede e quindi bisogna prepararsi a una guerra che si prospetta lunga e complessa si strano che pompeo no non lo posso dire scusate stavo per dire una cattiveria ma non la dirò questa guerra ovviamente prevede che ogni mossa si giochi su uno scacchiere su uno scenario che non è più quello del dell'italia non è più quello di roma ma è dell'intero mediterraneo perché di tutto il mediterraneo di tutto l'orbe terracchio centrale conosciuto di quel momento che stiamo parlando di quel delicato equilibrio che roma attraverso le sue conquiste è riuscita a portare all'interno del vaccino mediterraneo e che adesso vacilla sotto lo stesso peso di quei poteri di quelle forze latenti all'interno della repubblica che si agitano che strisciano all'interno dei tessuti della repubblica stessa e che hanno portato appunto alla guerra civile cesare quindi lo abbiamo seguito imbarcarsi in una serie di operazioni militari che hanno coinvolto il mediterraneo occidentale l'assedio di marsiglia tutta la il blocco della flotta di domizio enobarbo altro personaggio che sembra sempre trovarsi fra i piedi di cesare prima nell'assedio di continuo cesare lo fa prigioniero lo libera perché cesare è uno clemente almeno così ci racconta lui stesso e allora domizio fugge verso verso occidente si imbarca arriva a marsiglia qualche giorno dopo cesare e lì guida la difesa di marsiglia contro cesare stesso e anche qui alla fine perde domizio ed è costretto di nuovo a scappare con un peschereccio con una barchetta in pratica mentre i soldati di cesare entrano in città vogliosi di saccheggio cesare li ferma perché l'abbiamo detto cesare è magnanimo le operazioni proseguono in spagna anche lì si trovano enormi forze di pompeo che cesare sa di dover bloccare di dover sconfiggere per poi avere campo libero per inseguire il suo rivale il suo rivale che usa fa nel frattempo pompeo arrivato sulle coste adriatiche si sistema lì lui è nel suo territorio al controllo della regione a una serie di legioni stanziate in siria nell'oriente che richiama se altri sono già presenti nella provincia di macedonia lui tutto sommato a un mandato del senato a a una parte dell'entourage senatoriale con lui c'è anche cicerone a un certo punto che lo raggiunge che si mette a rompere i coglioni lo vedremo in mezzo al campo di battaglia cicerone faceva quel rompeva i coglioni cesare quindi si libera di tutti gli avversari in spagna con una serie di mosse militari che ci fanno ancora di più apprezzare la sua intelligenza tattica in guerra cicerone davvero esatto accademia di pugni cicerone rompeva i coglioni lo posso dire ho fatto il classico studiato letteratura latina tanti anni anche all'università ho dato tanti esami letteratura latina in sintesi cicerone rompeva i coglioni ma questa insomma c'è un'altra storia non vogliamo soffermarci su questo tutto rose fiori quindi tutto facile per cesare pare di no perché in realtà forse non direttamente da lui comandate ma dai suoi legati soprattutto nelle operazioni in spagna in sicilia in sardegna cioè in quelle zone che sono legate in qualche modo alla produzione alimentare e che servono non tanto a cesare in sé per le sue truppe anche se sono uno degli elementi chiavi di questa guerra e rifornimento alimentare quanto all'equilibrio di roma cioè mentre questi si scontrano cesare pompeo si ammazzano legioni su legioni soldati su soldati roma deve continuare a vivere e l'abbiamo visto questi personaggi si muovono all'interno delle leggi di roma sia quelle scritte sia quelle come possiamo dire biologiche necessarie finché roma sopravviva quindi è necessario che a roma arrivi il grano a prescindere da chi comanda roma perché se no i romani muoiono di fame e nessuno dei romani vuole un capo di stato che li fa morire di fame e quindi anche cesare deve operare in questo senso le campagne però delegati di cesare in spain scusate in africa e in sicilia non sono così baciate dalla fortuna come invece quelle di di spagna che comanda lui stesso cesare quindi si riorganizza una volta anche fermati una serie di tutti tumulti che ci sono ancora sulla penisola italiana la ribellione di piacenza per esempio cesare orga riorganizza le sue forze e decide che è arrivato il momento di andare a non a rompere il culo di andare a scontrarsi con il suo nemico a questo punto nello showdown finale di questa di questa guerra abbiamo lasciato quindi cesare esattamente 2049 anni fa il 21 dicembre del 49 avanti cristo organizzare le sue truppe e partire da roma verso brindisi ora arrivato a brindisi il problema grosso il primo problema che cesare ha davanti è che siamo in pieno inverno o meglio nella nel passaggio tra l'autunno e l'inverno questo rende estremamente pericoloso il passaggio dell'adriatico anche se è un passaggio tutto sommato rapido l'attraversata può richiedere da un giorno a un paio di giornate al massimo si fa quasi in giornata e però cesare sa bene che di tutte le risorse tattiche che lui ha a disposizione la rapidità di movimento la rapidità di spiegamento delle sue truppe è quella che in questo momento fino ad adesso se riesce si è rilevata l'arma migliore pompeo è molto più lento a muoversi molto più lento a prendere delle decisioni a reagire in maniera veloce e quindi cesare sa che deve batterlo deve battere il ferro deve proprio insistere affinché pompeo compie un errore per farciò prende sette legioni col minimo indispensabile voi immaginate sapete no che legionari partivano con lo zaino dove avevano mezzo accampamento dentro ed erano seguiti anche da l'esercito legionario seguito da tutta una serie di vettovaglie di di corte no di di corteo che li accompagna dove ci sono schiavi ci sono mercanti ci sono prostitute c'è tutto quello che diciamo di cui il campo ha bisogno spesso si sposta con lui cesare ha ben presente che se vuole attraversare velocemente l'adriatico non può portarsi dietro tutta sta roba deve essere proprio una cosa velocissima prendere caricare queste legioni e partire se vi ricordate pompeo stesso aveva avuto lo stesso problema cioè doveva partire velocemente ha imbarcato metà delle sue truppe le ha fatte arrivare dall'altra parte poi la follotta è tornata indietro si è rimbarcato le altre fuggendo da cesare appena in tempo cesare fa la stessa cosa prende sette legioni le carica alla belle e meglio su tutte le navi che ha a disposizione intanto la sua flotta l'ha raggiunto a brindisi e il 4 gennaio del 48 avanti cristo parte salpa varca i flutti in direzione dell'oriente chiaramente quali sono i porti in cui può arrivare cesare abbiamo una mappa a disposizione certo che abbiamo una mappa a disposizione la nostra immagine infatti ci descrive ci racconta un po quello che è la struttura delle città e degli insediamenti che si collocano sulla costa della dei balcani orientali e in particolare siamo nella regione dell'odierna albania l'albania attuale va a grosso modo da dove finisce lo schermo fino ad avanti l'isola di corcira che è la moderna corfu dove molti di voi vanno in vacanza e in questo momento ci sono due porti estremamente importanti in questa zona centrale dei balcani e sono durrachium e apollonia sono due città gemelle in qualche modo sono due colonie greche con una storia antichissima dalla metà del settimo secolo avanti cristo con una continuità di vita sono centri rinomati ma per motivi diversi durrachium che è l'odierna durazzo durres è un porto di mare è sempre stato un porto di mare è un centro commerciale enorme un hub diremmo con un termine moderno l'equivalente di uno dei grossi aeroporti commerciali dell'europa contemporanea con tutti i difetti delle città di mare quindi quartieri sordidi città pericolosa c'è un poeta credo sia orazio orazio caturlo la chiamano atria taberna la taverna dell'adriatico questo già come dire è un una definizione molto immaginifica di questa città d'altra parte apollonia anch'essa colonia greca la vedete nella mappa leggermente staccata dal mare ma non è una illusione o meglio è un effetto dei depositi sedimentali moderni apollonia era molto più vicino al mare aveva un porto staccato dalla città durazzo è proprio la città il porto insieme apollonia però si fa da subito la nomea di essere un centro di cultura tant'è vero che lì ad apollonia a studiare nella nella biblioteca di apollonia i testi greci la letteratura l'oratoria c'è ottaviano nel momento in cui cesare muore quando cesare muore ottaviano ad apollonia a studiare viene richiamato in patria per il funerale e con tutta una serie di eventi che forse saranno oggetto di un'altra narrazione di un'altra serie vedremo cosa 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 succederà quindi abbiamo da una parte il porto per eccellenza dall'altra la città di cultura pompeo conservatore si piazza ovviamente ad apollonia perché ad apollonia adesso senza entrare troppo nei dettagli geografici è una città che sta su una collina con un enorme piana intorno ricca piena di cibo e sta diciamo strategicamente tra durazzo e il sud dell'albania quindi in qualche modo pompeo riesce a controllare entrambe queste zone e soprattutto sia da durazzo che da apollonia partono due rami di una via la via ignazia via consolare che collega queste due città con tessalonica quindi attraversa i balcani in orizzontale e poi arriverà sono in tempi più recenti fino a bisanzio fino a costantinopoli quindi un'arteria quello che nel nei piani europei è il corridoio 8 c'è un'arteria che tuttora viene molto utilizzata ma che permette di tagliare tutta la regione montuosa dei balcani meridionali evitare di fare tutto il giro e quindi di arrivare alle zone dell'egeo orientale cesare parte con le sue navi sbarca sbarca qui a paleste non è non può sbarcare più nord perché serve troppo vicino alle truppe di pompeo c'è una guarnigione di pompeiani anche ad oricum un altro porto naturale in mezzo a una laguna un posto bellissimo se vi capita di fare un giro nella bagnia sono tutti i posti che vale la pena assolutamente visitare sbarca a paleste riuscendo a nascondere la propria presenza alla guarnigione appunto pompeiana tanto che appunto riesce a evitare che pompeo venga a sapere del proprio arrivo fino a quando praticamente è quasi quasi alle porte di apollonia l'obiettivo di cesare è di arrivare a durazzo perché perché a durazzo ci sono enormi magazzini però detto è un porto un porto a enormi magazzini in cui magazzini ci sono risorse c'è cibo c'è acqua c'è tutto quello che serve per foraggiare un esercito e ovviamente durazzo è uno dei due lembi dei due estremi della viegnazza quindi strategicamente controlli l'accesso a una via pompeo ovviamente nel momento in cui viene a sapere che cesare si sta muovendo che è lì sulle coste fa la stessa cosa anche lui deve arrivare a durazzo prima di di cesare sono movimenti di pochissimi giorni cesare arriva il 6 gennaio il 7 si mettono in marcia entrambi cercano di raggiungere durazzo a un certo punto pompeo che più avanti sorpassa le rive dell'apso il fiume che c'è tra polonia e durazzo si mette da una parte del fiume e si ferma si blocca per evitare che cesare possa avanzare cesare ovviamente arriva dall'altra parte del fiume e si si blocca anch'esso perché la posizione di pompeo non gli permette in questo momento di fare il giro siamo al 10 di gennaio siamo in piena stagione invernale una stagione assolutamente non propizia né per la navigazione né se vi ricordate per la guerra di solito la stagione bellica si apre nella tarda primavera all'inizio dell'estate e normalmente è anche una stagione in cui gli eserciti una volta che sono arrivati in determinati posti si bloccano restano in una guerra diciamo di di frizione di attrito c'è un altro pezzo della flotta di cesare che è rimasto a brindisi e che non può partire non osa partire perché la flotta di pompeo nel frattempo si è spostata verso sud e pattuglia quel ramo di mare quindi rischia di di distruggere appunto la flotta in arrivo al momento in cui si fermano su entrambe le rive dell'apso cesare pompeo hanno già degli eserciti che sono estremamente differenti nel numero pompeo ha un esercito abbastanza grande c'ha circa 45.000 legionari c'ha 7.000 cavalieri che sono una bella cifra di cavalleria da utilizzare in questo caso e cesare ha la metà delle giornate circa 20.000 meno della metà e a 500 cavalieri quindi numeri che sono estremamente diversi tra i due eserciti eppure pompeo decide di non attaccare immediatamente ma di aspettare che l'arrivo della stagione secca ha fami faccia morire di fame l'esercito di cesare e quindi può di poterlo colpire in un momento di estrema debolezza mentre questi due eserciti sono lì che si guardano in cagnesco ci sono degli scontri di guerriglia delle piccole azioni di manovra per cercare di aggiustare le proprie posizioni c'è sia all'interno del campo di cesare che in quello di pompeo molta tensione molta tensione per le situazioni interne questo è il caso in cui appunto vi dicevo c'è cicerone che nel campo di pompeo critica costantemente l'operato di pompeo attuale e delle persone di cui sei circondato dice scusa ma quelle persone di cui ti sei circondato sono alla pari di quelle che hai di quelle che ha cesare l'altra parte allora cosa c'è di diverso tra noi e loro e allo stesso modo ci sono una serie di personaggi in cui adesso non entreremo però giusto per descrivervi l'atmosfera che c'è intorno a questa guerra ci sono una serie di personaggi a roma che stanno cercando di approfittare del fatto che i due uomini più potenti di roma sono via si stanno scontando fra di loro e sia con manovre politiche che con sotterfuggi criminali cercano di prendere il potere di controllare l'elezione delle cariche e di in qualche modo spostare l'asse del potere appunto verso di loro sono tentativi che finiscono malissimo che vengono repressi nel sangue questi personaggi vengono brutalmente uccisi da una serie di di corpi speciali di legioni che in quel momento il senato dispiega all'interno del territorio italiano tra l'altro uno di questi viene viene ucciso da una legione che cesare è un comparto di cavalieri gallici ispanici che cesare aveva lasciato vicino a turi in italia e lui che questo personaggio cercava di sollevare in qualche modo e di recuperare a sé comunque sta di fatto che tutte queste rivolte vengono represse nel sangue ed è un un operato che ormai è diventato quasi un operato standard all'interno della repubblica che fa capire quanto il livello di tensione sia altissimo se vi ricordate già appena prima dello scopo della guerra civile c'erano bande armate che giravano a roma che minacciavano uccidevano gli avversari politici non è una situazione semplice per per roma stessa l'inverno passa in questo staleimate in questo stallo sulle due rive di un fiume dovete immaginare queste colline ghiacciate questi due accampamenti uno di fronte all'altro col fiume tortuoso impetuoso che passa in mezzo e con l'attesa snervante da una parte dagli e dei soldati cesare che il nemico si decide ad attaccare e gli schiacci per superiorità numerica dall'altra che ha all'esercito di pompeo succeda qualcosa che li metta poi in condizione di essere di una condizione di debolezza e nel frattempo sperare che l'esercito nemico si indebolisca perché comunque tra i due e cesare quello in territorio nemico in questo momento alla fine quello che cambia un po gli equilibri della della situazione è che Marco Antonio e Caleno che sono Marco Antonio legato di Cesare Caleno alleato di Cesare riescono alla fine alla fine di marzo tra l'inizio della fine di marzo e l'inizio di aprile a partire con il resto della flotta a passare ad arrivare in epiro con delle perdite comunque che che non sono che non sono indifferenti una nave viene completamente distrutta un'altra che trasportava 200 veterani si arrende a una delle pattuglie di pompeo e vengono brutalmente massacrate in mezzo al mare tuttavia Antonio Marco Antonio riesce a portare altre quattro legioni e soprattutto 800 cavalieri a Cesare stesso ho detto Cesare stesso ma in realtà sono stato impreciso perché queste forze non arrivano non riescono ad arrivare al campo di Cesare riescono a trovare un approdo a nord di Durazzo quindi completamente da un'altra parte siamo qua per intenderci il sovrosegno completamente da un'altra parte rispetto a dove si trova l'esercito cesariano e questo determina una cosa che sia Pompeo che Cesare si rimettono in moto si rimettono in marcia perché per entrambi è di nuovo fondamentale riuscire ad arrivare per primi a Durazzo il più interessato dei due però è Pompeo che diciamo governa gestisce questo territorio e che conosce quello che c'è a Durazzo si muove quindi verso nord evita di ingaggiare il restante esercito adesso vi disegno anche facciamo dei disegnini carini Pompeo si trova qui e Cesare si trova esattamente qui davanti Pompeo si muove verso nord e arriva ad Asparagium qui evita di ingaggiare le truppe di Cesare che arrivano da nord che si riuniscono davanti ad Asparagium stessa al luogo conosciuto come Asparagium dico luogo perché archeologicamente non si sa dove sia questo Asparagium precisamente ci sono serie di opinioni di ipotesi si tratta comunque di una probabilmente di un centro che si trovava sulle colline attorno alla città di Durazzo e di nuovo si verifica una guerra di trincea vogliamo chiamarla antelitteram una guerra di posizione vediamo se abbiamo un grafico vedete che la città di Durazzo è qui questa è la struttura dell'enorme muro dell'enorme circolo che pianta Pompeo con un sotterfugio Cesare riesce a girargli intorno ad arrivare a nord come vedete il campo centrale di Cesare è più a nord di quello di Pompeo tuttavia Pompeo avendo accesso al mare ha accesso alla linea diretta di collegamento con Durazzo e comunque il suo campo controlla la strada immaginate in una decina di giorni una ventina di giorni questi costruiscono strutturano due linee di fortificazione quella di Pompeo di 15 chilometri di lunghezza quella di Cesare di 17 chilometri di lunghezza perché Cesare ci deve sempre mettere un pochino di lunghezza in più cosa succede? che quindi abbiamo l'esercito meno numeroso che deve controllare e difendere il circuito murario la fortificazione più lunga e che assedia l'esercito più numeroso d'altra parte Pompeo ha più numeri ed è meglio rifornito chiaramente con i collegamenti con Durazzo ma i suoi soldati in questo momento fino a questo momento hanno non dico qualche dubbio però il morale, la fiducia che i cesariani hanno nei confronti del loro comandante non è quella che i Pompeiani hanno nel loro è una guerra lunga, dura quattro mesi è una serie di guerriglie lunghe, quattro mesi in cui da una parte ci sono una serie di racconti molto divertenti per cui i cesariani a un certo punto finiscono il grano non hanno più pane ma i boschi attorno alla zona sono ricchi di selvaggina ci sono tanti allevamenti quindi si, diciamo, fanno meno del pane ma mangiano un sacco di carne e soprattutto trovano un'erba adesso non mi ricordo come si chiama credo sia tipo l'equivalente della canapa con cui fare delle specie di pagnotte che sostituiscono il pane quindi Pompeo stesso li definisce delle bestie perché non mangiano più come degli uomini i romani sono molto così quando si parla di cucina di quello che si può mangiare e non si può mangiare non so se vi ricordate l'aneddoto degli asparagi di Cesare appunto i Pompeiani hanno un solo unico problema un problema che non è però secondario all'interno della gestione di un accampamento hanno pochissime fonti d'acqua per quanti suono è una costa estremamente rocciosa e arida quella parte da Petra, la Baia di Cavaie che è la parte meridionale del Golfo di Durazzo e hanno poco foraggiamento per i loro animali sono quindi, diciamo, ancora una volta tra pro e contro, tra pregi e difetti in una nuova posizione di stallo che cosa... come spesso succede in questi casi quello che fa pendere l'ago della bilancia da una parte e dall'altra non è una strategia tattica ben precisa ma è un episodio e l'episodio stavolta succede nel campo di Cesare ovvero ci sono un paio di capi dei suoi ausiliari galli che probabilmente stavano facendo qualcosa di losco qualcosa di malversazione, di gestione di soldi, di cose varie vengono accusati gli vengono rivolte queste accuse notte e tempo questi passano dalla parte di Pompeo e a Pompeo dicono guarda, le difese sono abbastanza buone tranne che in questo punto in particolare nella parte meridionale qui dove vedete le parti non finite della fortificazione le difese erano più lasche ovviamente con dei numeri così diversi Cesare sceglie di controllare di più la parte più vicina al campo di Pompeo Pompeo fa una sortita notturna questa sortita è iper efficace solo in quella sortita muoiono 960 soldati di Cesare che se pensate su 22.000 non sono affatto pochi per non essere una battaglia è proprio un massacro e soprattutto permettono a Pompeo di uscire da questo assedio che tutto sommato era un po' umiliante anche cioè lui con l'esercito più grosso in una zona che è la sua si ritrova assediato e messo alle strette questa per Cesare è la più grande delle sconfitte dirette nella guerra civile è un massacro totale è un massacro dal punto di vista fisico per i soldati che muoiono ed è un massacro dal punto di vista morale perché è la prima volta in cui i soldati di Cesare non trovano più fiducia nel proprio comandante Cesare esausto esatto Alphard Cesare esausto ma allo stesso modo secondo molti storici segna anche dà proprio il segnale preciso del fallimento di Pompeo come generale Cesare stesso ammette che se Pompeo quella notte avesse finito il suo lavoro o se qualcun altro dice Cesare avesse comandato gli uomini di Pompeo la 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 battaglia sarebbe stata la sconfitta sarebbe stata totale invece così non è Pompeo si riduce a semplicemente massacrare e ritornare all'interno del campo aspettandoli il giorno dopo l'indomani per sferrare l'attacco decisivo che comunque non sferra Pompeo è proprio un temporeggiatore puro vediamo come vanno le cose cosa succede e così via siamo ai primi di luglio Cesare e le sue truppe sono esauste sono quasi finite tutte le risorse siamo in piena stagione secca Cesare deve prendere una decisione se resta lì non può garantire la vittoria anzi è quasi certo della sconfitta è stato a un soffio dal perdere tutto quella notte quindi stavolta per la prima volta durante questa guerra civile tocca a lui ritirarsi e senza la solita fanfara di notte causando la copertura delle tenebre Cesare evacua le sue posizioni e comincia una serie di tappe a marze forzate per allontanarsi il più possibile da Pompeo stesso direzione sud-est le montagne del Pindo le montagne del Pindo perché come come Pompeo anche Cesare ha degli alleati che stanno raccogliendo delle forze per dargli manforte Pompeo è lì e dice ah Cesare è scappato potrei inseguirlo certo ma chi difende l'Italia a cui non stava pensando nessuno ovviamente in quel momento però lui decide che l'Italia è un da cui era fuggito sei mesi prima è un elemento strategico a cui pensare immediatamente quindi stanze delle truppe che vadano a supporto di Catone il Giovane per difendere l'Italia caso mai Cesare avesse deciso di di ritornare questo temporeggiare dà tempo a Cesare di muoversi attorno attraverso le parti montuose della Tessaglia e quindi Cesare si muove no in questa vediamo scusate vi sposto un po' la carta così si vede meglio si muove con decisione quindi da da Sparajum verso Gonfis e Metropolis questa è la direzione in cui si muove Cesare passa tra queste regioni montuose passa per Gonfis la saccheggia perché a questo punto non si può più guardare in faccia a nessuno e ha bisogno di ricchezza ha bisogno di grano ha bisogno di cibo per i propri soldati e come dire dà anche un un certo una certa impronta a questa sua spedizione tant'è vero che è passata Gonfis saccheggiata Gonfis appena arriva a Metropolis che non è la città di Superman ma è semplicemente un termine per indicare città madre è antico Metropolis gli apre gli apre le proprie porte e dice ah benvenuto il nostro salvatore il condottiero più forte dell'occidente dell'oriente chiaramente per evitare il massacro e a quel punto Cesare come dice il detto la fortuna arride agli audaci queste sue marce forzate lo portano vicino alle piane della Tessaglia vedete questa è la zona montuosa subito davanti ci sono le piane nel momento della raccolta del grano e gli permette quindi di recuperare forze e energie per confrontarsi con Pompeo Pompeo nel frattempo ha anche lui degli altri alleati che stanno che stanno arrivando scusate continuo a spostare anche lui degli alleati che stanno arrivando e si muove parallelamente a Cesare sfruttando un pezzo della diagnazia noi avevamo parlato questa arteria che si che si dipana appunto nei Balcani da Durrachium della Sparagium si muove verso Eraclia che è qua e questo è proprio il primo tratto dell'Egnazia che poi continua a diritta da questa parte e attendendo un suo legato Metello Scipione che sta arrivando con altre tuppe lo incontra a metà strada e si muove verso la Rissa dove è l'Albania chiede il nuovo gamer l'Albania guarda è esattamente adesso aspetta che spostiamo la mappa un pochino e la regione attuale dell'Albania e lo stato dell'Albania va grossomodo da grossissimo questa penna enorme grossomodo da qui sopra da Alissos copre tutta questa regione e arriva fino a scusate la sto facendo un po' corta ecco qua fino a poco più a sud di Butrot che è l'odierna Butrint e Corcira Corfu che è il confine con la Grecia qua siamo nella Grecia continentale i due quindi ancora una volta si percorrono delle strade parallele tra di loro e durante l'estate del 48 avanti Cristo quindi si orientano si si indirizzano verso le piane della Tessaglia fino ad arrivare nei giorni primissimi giorni di agosto in questa grande piana che c'è tra la Rissa e Metropolis che vediamo anche qui nota dalle fonti qua c'è la Rissa Metropolis se da queste parti nota come ovviamente la piana di Farsalo che è la piana dove si svolge la battaglia finale di questa guerra lampo perché in realtà come vi dicevo sembrava una guerra destinata a durare anni in realtà siamo nella sua fase finale nel suo concludersi almeno nello sconto fra Cesare e Pompeo dopo poco più di un anno e mezzo dall'inizio Pompeo si posiziona col suo campo da queste parti vedete vediamo se anzi andiamo in ecco così si vede un po' meglio la Rissa è qua a nord Pompeo vede questa grande piana dove passa il fiume Enipus che passa qua da qualche parte eccolo qua e si posiziona sul pendio su una delle alture che dominano questa zona quindi una posizione strategicamente importante sul pendio della che guarda verso la piana di Farsalo e di fronte a lui un poco più a sud da queste parti dovrebbe essere si posiziona il campo di Cesare siamo come vi dicevo ai primi di agosto ai primi di agosto in Grecia continentale fa caldissimo ogni mattina Cesare ordina la donata la rissa nomenomen esatto knight ordina la donata Cesare fa uscire in parata i suoi uomini li fa disporre e ogni mattina schiera l'esercito sfrucugliando Pompeo invitando Pompeo a combattere in campo aperto Pompeo indovinate un po' ma stamattina non me la sento il volo degli auguri ha detto che oggi piove poi non piove mai forse guarda un po' di mal di schiena magari facciamo domani tituba temporeggia e questa cosa comincia a stare a dare fastidio non a Pompeo che insomma ormai ha capito che la teoricamente lui avrebbe la vittoria in pugno sono di più sono sulla sulla posizione più alta per chi conosce Guerre Stellari sa benissimo cosa vuol dire avere la posizione più alta mi riferisco ovviamente a una delle scene finali della vendetta dei Sith però ai legati di Pompeo a tutto il suo entourage questa cosa non va sono lì sono tanti hanno voglia di scendere in battaglia e vedono nel temporeggiare di Pompeo una sorta di debolezza ma come potevamo sconfiggerlo già a Durazzo potevamo schiacciarlo ad Asparagium e non l'abbiamo fatto e adesso guardali sono pochi sono demoralizzati fa caldo i nostri sono tanti non vedono l'ora di combattere per te Pompeo insomma a un certo punto Pompeo diceva sì vabbè sì va bene facciamo questa battaglia così non mi rompete più i coglioni ovviamente per fare questa battaglia deve scendere in piano anche lui e perde la prima cosa ovviamente che perde è il vantaggio strategico territoriale Pompeo e i suoi sono convinti in qualche modo che le truppe che si trovano davanti siano le stesse che hanno combattuto un mese prima a Durazzo vedremo che non è esattamente così soprattutto non è così in termini di morale siamo al 9 agosto del 48 avanti Cristo piana di farsolo le prime luci dell'alba perché ovviamente fa caldo quindi non si può combattere a mezzogiorno giusto bisogna combattere quando ancora c'è un alito di vento quando ancora l'umidità della collina ti permette di respirare un minimo con la lorica addosso col pilum col gladio con l'elmo che ti pesa addosso il sole che comincia a battere questi elmi di bronzo di ferro che si riscaldano e bisogna schierare le truppe abbiamo lo schieramento delle truppe di Pompeo e di Cesare abbiamo anche lo schieramento delle truppe di Cesare e Pompeo ce l'abbiamo e forse riconoscete già il nome portafortuna il totem portafortuna di Pompeo per questa battaglia ma ci arriviamo fra poco abbiamo detto che gli eserciti sono estremamente squilibrati in termini di di numeri Pompeo ha 110 coorti 110 coorti significa 45 mila fanti a disposizione a fianco di questi 45 mila fanti ci sono 2000 veterani 7000 cavalieri di cavalleria pesante per la maggior parte in parte anche di cavalleria leggera 3000 arcieri e 1200 frombolieri che a me hanno fatto sempre molto ridere i frombolieri immagino questi con le fiume e comunque stiamo parlando di un non si vede tutto è tagliata fermi tutti avete ragione scusatemi la riduciamo un pochino e la spostiamo e e la spostiamo di qua vediamo se così si vede tutto dovrebbe vedersi quasi tutta diciamo che comunque è questa la parte tagliata non è non è rilevante sono tutte qui le forze di di pompeo no perché il signorino si è permesso di dire ok ho portato 110 corti sul campo ma voi che 7 sul campo di battaglia chiaramente vuoi che 7 non li lasci al campo base sia mai che passa qualcuno a svuotarci le tende mentre mentre noi siamo siamo qua a divertirci perfetto 7 corti le lasciamo al campo base sul lato pompeo schiera tra l'altro due legioni la legge prima la legge terza che non erano sue erano due legioni di cesare che secondo un decreto senatoriale del 50 a.c. cesare aveva dovuto cedere a pompeo stesso sono quelle che sono schierate da questa parte mettiamo un pennino sottile da questa parte quindi oltre il danno anche la beffa il centro dello schieramento è tenuto da metello scipione l'alleato di pompeo generale esperto che è arrivato a dargli manforte alla rissa e che si occupa della parte centrale dello schieramento l'ala destra dello schieramento è tenuta da pompeo stesso scusate l'ala sinistra dello schieramento al contrario è tenuta da pompeo stesso insieme a un suo fedelissimo ovvero lucio domizio enoparbo il grosso delle forze non di fanteria quindi le cavallerie gli arcieri e soprattutto i 2000 veterani che sono una forza aggiunta sono proprio sul lato sinistro sono sul lato comandato da enobarbo e dove pompeo si trova direttamente di fronte quando schiera le sue truppe si trova appunto l'esercito di cesare cesare che cos'ha cesare ha 80 corti ma non al pieno della forza quindi non stiamo parlando di una corte al pieno degli uomini 80 corti sotto numero 22.000 fanti la metà di quelli che ha a disposizione pompeo sui lati cesare riesce a schierare 1000 cavalieri sono 6000 cavalieri in meno rispetto alla cavalleria di pompeo i numeri che non sono proprio cifre di secondo di secondo piano anche pompeo anche cesare scusate decide di lasciare sette corti evidentemente detto tanto male che vada almeno lasciamo qualcuno al campo lascia sette corti al al campo stesso i luogotenenti di pompeo di cesare scusate sono marco antonio che regge l'ala sinistra dell'esercito di cesare un ruolo importantissimo perché marco antonio sul piano di battaglia sul campo di battaglia è considerato l'alter ego di cesare dalla fiducia che il generale ripone marco antonio può gestire da solo un'ala difficile dell'esercito al centro dello schieramento c'è neodomizio calvino un legato ai cesare la parte centrale dello schieramento in questo tipo di schieramenti è tra virgolette in battaglia tra virgolette quella più sicura nel senso che quella che hai più massa di persone davanti prima che arrivino ad ammazzare il comandante ci vuole un po' più tempo l'ala sinistra e qua guardate quanto è beffarda la storia l'ala sinistra dove c'è la decima legio di cesare è comandata oltre che da cesare stesso che come vedete è posizionato esattamente di fronte a pompeo e sull'ala più manovrabile del suo esercito è comandata da publio cornelio silla publio cornelio silla è il nipote di lucio silla del dittatore cioè di quello che ha cercato di uccidere cesare e la sua famiglia ricordate cesare nipote di gaio mario nel nella nelle guerre civili che hanno preceduto che hanno come dire che hanno animato gli anni 90 80 del primo secolo venti cristo ecco suo nipote è schierato a fianco di cesare chiaramente entrambi i comandanti sia pompeo e cesare sanno che la battaglia si gioca tutta su questa su quest'area su questa fascia dell'esercito ovvero cesare scusami publio cornelio silla publio cornelio silla sta con cesare adesso ma è nipote di uno degli uomini che ha cercato di uccidere lo zio di cesare gaio mario e cesare stesso per fare ciò come vedete ci sono gli schieramenti disposti su tre linee si vedono abbastanza bene direi anche da questo schema per fare ciò cesare si inventa una ulteriore forza queste sei corti che schiera in basso una quarta linea di schieramento e che doveva erano una serie di uomini tirate fuori dalle linee degli schieramenti sulla piana in modo da far sembrare che comunque ci fossero abbastanza uomini da coprire i schieramenti e che dovevano offrire massa resistente all'impatto della cavalleria di pompeo almeno queste erano le intenzioni di cesare è l'alba e entro le prossime tre massimo quattro ore quando il sole sarà alto non solo l'esito di questa battaglia ma di tutta la campagna del 49 e del 48 avanti cristo ormai sarà stato deciso per l'occasione ho recuperato un pezzettino vediamo se lo ritrovo al volo ecco qua un pezzettino proprio del Debello Gallico scusate del Debello Civili che racconta delle esortazioni di Cesare e dell'inizio della battaglia Cesare è nella comunicazione nei suoi discorsi ai soldati estremamente sintetico estremamente laconico ve lo riassumo velocemente dice che ricorda i meriti acquisiti sul campo verso di loro ricorda a tutti che questa è l'estrema razza che lui aveva cercato la pace con Pompeo vari tentativi politici ovviamente deve in qualche modo sempre giustificare quello che sta facendo che non ha mai voluto sprecare il sangue dei soldati non ha mai voluto privare lo stato di nessuno dei due eserciti perché comunque ricordiamoci sempre che di fronte ci sono altri romani questa è una guerra fratricida due legioni che ha schierato Pompeo erano legioni di Cesare e i soldati sono ansiosi di combattere allora Cesare dà il segnale fa dare il segnale dell'avanzata con la tromba non appena suona il segnale si alza un un legionario di nome Crastino un uomo che nei racconti di Cesare è un uomo di straordinario coraggio e appena viene dato appunto il segnale urla seguitemi voi che mi siete stati compagni di Monipolo e date al vostro comandante l'aiuto che gli avete promesso resta solo questa battaglia finita questa Cesare recupererà la sua dignità e noi la nostra libertà poi si volta verso Cesare e dice oggi vivo morto fare in modo che tu mi sia grato ed è il primo a lanciarsi verso lo schieramento di Pompeo Crastino centurione guida quindi questa prima forza sono un centinaio di uomini che si slanciano di corsa inebreati dal discorso di Cesare e dalla voglia di battaglia verso lo schieramento di Pompeo indovinate cosa fa lo schieramento di Pompeo ci sono questi centoventi uomini che si lanciano lo schieramento di Pompeo con Pompeo sono lì sì veramente sono sono le sei e ventotto avevamo detto che iniziavamo alle sei e mezza magari aspettiamo due minuti prima di cominciare ancora una volta l'esercito attende stavolta non attende per caso ma attende scientemente almeno così pare perché se appunto questi centoventi uomini fossero arrivati avessero lanciato i giavellotti che era il primo atto di attacco dell'esercito quando l'esercito era fermo schierato i giavellotti si sarebbero schiantati sugli scudi senza avere nessuna apertura i soldati di Cesare si accorgono di questa cosa e proprio tipo inchionano sul momento senza lanciare niente avanzano in maniera più compatta e finalmente le due linee di battaglia i due schieramenti le due linee i due fronti e gli schieramenti si si scontrano nel momento in cui comincia l'assalto frontale si capisce subito che questa battaglia non può essere decisa dallo scontro dei due corpi principali sono in perfetto equilibrio da una parte Cesare ha più veterani più esperti nello scontro dall'altra le nuove recrute di di Pompeo sono lì sono gasate sono tanti vogliono far vedere che possono sconfiggere finalmente questo esercito che sembrava prima di Durazzo Invincibile e Pompeo dopo un po' che questa battaglia è lì bloccata decide finalmente di agire e per farlo ordina alla sua cavalleria di avanzare e cercare di aggirare il fianco dell'esercito di Cesare e usare il maggior numero di suoi soldati per mandare in rotta l'esercito cesariano la cavalleria di Pompeo si scontra con quella di Cesare 7000 contro 1000 eppure la cavalleria di Cesare riesce in qualche modo a rallentare l'avanzata della cavalleria di Pompeo a quel punto Cesare che non è lento nell'agire e ancor meno nel reagire vede uno spiraglio la cavalleria è ferma non riesce ad avanzare nonostante siano maggiori in numero sono imbottigliati lì c'è polvere nella piana è secco ormai siamo a metà mattina saranno le 10 il sole comincia a farsi sentire i cavalli sono stanchi nitriscono c'è rumore di battaglia spade e scudi che si scontrano è quello il momento di agire quarta linea di soldati quella che nessuno aveva visto Cesare li fa avanzare dal lato estremo destro del proprio schieramento e li fa colpire il fianco dell'esercito quelli che avevano attaccato fino a quel momento si ritrovano a essere attaccati e sconvolti dalla volgere degli eventi la cavalleria di Pompeo si dà alla fuga nel momento in cui la cavalleria si dà alla fuga lascia scoperto il fianco e il retro delle truppe pompeiane Pompeo lì vede questa scena capisce che la battaglia è persa almeno così ritiene e fugge verso il campo per salvarsi per recuperare le forze lentamente ma inesorabilmente l'accerchiamento di Cesare ha il suo effetto e entro mezzogiorno il campo di battaglia è mai stato completamente occupato dalle forze cesariane fa caldissimo a quel punto mezzogiorno di agosto in Grecia Cesare al contrario di Pompeo sa che quello è il momento di giocarsi il tutto per tutto lì si decide la la guerra se non mette fine in quel momento alle forze pompeiane loro sono di più possono riorganizzarsi nonostante ci sia un caldo devastante nonostante i soldati siano esausti sono 4-5 ore che combattono in inferiorità numerica e hanno pure vinto Cesare spinge i suoi uomini a continuare ad attaccare devono arrivare al campo di Pompeo i soldati invasati al loro generale continuano l'avanzata l'esercito di Pompeo in fuga non offre alcuna resistenza le corti che difendevano l'accampamento non sono di valore pari a quello che era stato schierato all'interno del campo di battaglia e Pompeo quando vede arrivare le forze di Cesare che tagliano come il burro le sue difese verso l'accampamento prende e fugge verso la rissa e appena arrivato alla rissa si imbarca ancora una volta è la rapidità di azione di Cesare che permette la completa distruzione delle forze di Pompeo invece di lasciare che i soldati indugino nel saccheggio del campo avversario Cesare li sprona a catturare più nemici possibili gran parte dei luogotenenti di Pompeo vengono catturati e fatti prigionieri in quel momento e metà della della almeno metà dell'armata di Pompeo viene completamente obliterata dalle forze di Cesare giusto per darvi qualche numero sulla strage probabilmente Cesare ci dice che 15.000 soldati sono stati uccisi e 24.000 catturati probabilmente diciamo Cesare pompa queste cifre per per celebrare la sua vittoria Asinio Poglione che è uno dei legati di Cesare riporta che siano stati 6.000 i nemici uccisi che comunque non sono pochi ecco se ricordate il massacro a Durazzo dove erano caduti 900 soldati di Cesare qua ne sono morti 6 volte tanto 7 volte tanto nonostante la sconfitta e le avversità patite a Durazzo Cesare quindi esce vincitore dalla campagna nella provincia di Macedonia anche se alcune perdite le ha sofferte anche lui 200 fra i suoi legionari sono morti tra cui 30 centurioni tra cui crastino il nostro centurione del discorso che viene trovato ucciso con una spada piantata nella gola evidentemente non aveva smesso di inneggiare a nome di Cesare fino all'ultima stilla di vita che gli rimaneva Cesare riconosce il coraggio e l'onore di questo soldato e accanto alla tomba comune che fa costruire per che fa scavare costruire per i soldati caduti fa mettere una tomba singola dedicata a crastino stesso tra i caduti di Cesare scusate tra i caduti di Pompeo quasi tutti sono soldati semplici gran parte dei suoi legati viene viene risparmiato fatto per Giugniero solo uno invece cade muore trovando finalmente la sua degna fine nella battaglia che ovviamente il nostro Lucio Domizio Enobarbo presente in tutte le battaglie in tutte le sconfitte di Pompeo e tra l'altro invece quello che non vi ho detto è che non c'era nella vittoria di Durazzo non aveva ancora raggiunto Cesare e Pompeo quando Pompeo e Cesare sono scontrati attorno a Durazzo quindi abbiamo la certezza che fosse un menagramo di quelli di quelli grossi nel frattempo Pompeo chiaramente fugge alla rissa arriva ad Anfipoli a bordo di una chiatta di grano quindi proprio nascostissimo da lì come forse quasi tutti voi sapete scende in lungo l'Asia Minore fino ad arrivare in Egitto ovviamente come vi dicevo l'effetto delle guerre civili romane non è solo sui territori umani ma anche su quelli che li circondano quando arriva in Egitto Pompeo si trova davanti indovinate un po' un'altra guerra civile una guerra civile stavolta dinastica tra due rami della dinastia dei Ptolemaidi in particolare Ptolemeo XIII e Cleopatra VII la Cleopatra che tutti noi conosciamo tra i due essendo ovviamente non solo un grande generale ma un'arguta mente politica Pompeo sceglie di allearsi col giovane Ptolemeo XIII che però dice sai che c'è questo le ha appena prese da Cesare che comanda su tutto il Mediterraneo è troppo pericoloso che resti che resti vivo quindi organizza un assassino in piena regola Pompeo viene attirato dalla sua nave da guerra dove si era dove era diciamo nascosto riparato su una nave su una barchetta egiziana che lo porta e arriva un ufficiale uno dei suoi ex ufficiali lo pugnala prima ancora che lui possa toccare terra nella data del 28 settembre un giorno prima del suo compleanno del compleanno di Pompeo è nell'anniversario del suo terzo e ultimo trionfo la guerra civile propriamente detta lo scontro fra Cesare e Pompeo si conclude qui quello che però succede a Farsalo si riflette e si propaga come un sasso lanciato in uno stagno sia nel presente di Cesare che nel suo immediato futuro a Farsalo tra i vari prigionieri c'è un certo Bruto il cui nome dovrebbe ricordarvi qualcosa Bruto viene risparmiato da Cesare che fa mostra ancora una volta di quella clemenza che abbiamo visto già nell'assedio di Corfinio che abbiamo ritrovato come carattere ridondante nelle ultime battaglie di Cesare nella guerra civile lui decide di non infierire sui propri nemici soprattutto su quelli che sono parte dell'establishment romano e questa sua clemenza però gli costerà la vita quattro anni dopo a Lady di Marzo Ottaviano che seguirà le orme di Cesare invece questo problema lo avrà ben presente e infatti nella battaglia di Filippi che è la conclusione della sua guerra civile quella di appunto di Ottaviano Augusto non ci sarà clemenza per gli avversari politici saranno tutti messi a morte e ovviamente con loro la repubblica stessa con Cesare vincitore e Pompeo morente sulla zattera che sta per toccare terra sulle coste del Mediterraneo sulle coste egiziane del Mediterraneo si conclude la nostra narrazione di questa di questa guerra civile gli strascichi come vi dicevo sono enormi sono immediati sono quelli di un uomo Cesare che si trova si troverebbe almeno ad avere finalmente il controllo della politica e del e dello stato romano e che però ci mette ancora tre anni tra rivolte ex alleate di Pompeo che comunque continuano a a a muovere armate e a mettergli bastoni fra le ruote ci mette tre anni a raggiungere il suo obiettivo diciamo di pacificazione e tornare a Roma in quei tre anni in cui se vi ricordate la live del tour tra i fori romani comincia a far costruire anche un suo foro a Roma accanto al foro romano vero e proprio quel foro come tutta l'impresa di Cesare non vedrà il suo il suo autore il suo ideatore non ne vedrà il compimento sarà quell'eredità però enorme ingombrante e estremamente difficile da gestire sarà raccolta e gestita in una maniera sublime elegantissima da Ottaviano Augusto che capirà i limiti dell'impresa cesariana che smusserà gli angoli della figura di Cesare già da partire dalla vendetta del suo assassino fino alla sua divinizzazione al ricordo che ne farà durante il suo funerale e leggerà il tempo e la situazione spostando l'attenzione dalla figura di un generale di un imperator che ha il pieno controllo militare di uno stato a un padre benevolo della patria un salvatore della patria che non si attribuisce da sé alcuna carica e che riceve con umiltà finta ovviamente ed eleganza tutte le cariche che invece il senato e il popolo di Roma gli riverseranno addosso è l'inizio di quel grande enorme gigante fenomeno dell'occidente che chiamiamo impero romano signori io spero che questa che questa live vi sia piaciuta che questa serie vi sia piaciuta con oggi concludiamo questo appuntamento con le guerre civili romane torneremo prossimamente con un'altra serie dal vostro fedelissimo Archeo Chad ma vi ricordo che abbiamo in programma ben altre cose con con Morgere Mardegan nei prossimi giorni quindi state collegati seguiteci su facebook seguiteci su instagram seguiteci su telegram dove abbiamo sia la abbiamo il canale che vi aggiorna giorno per giorno ogni volta che che abbiamo una live che sta per iniziare seguiteci ovviamente sempre qui su twitter su twitter scusate su twitch dobbiamo fare anche un account twitter già che ci siamo e che dire io sono stato molto felice di iniziare questo questo viaggio con l'accademia con questa con questo argomento delle guerre civili perché come vi ho già menzionato è una cosa su cui abbiamo ho lavorato tangenzialmente su dal punto di vista archeologico essendo un archeologo mi sono mi sono mi sono occupato appunto di corfini delle sue mura fantasme e così via vediamo cosa cosa ci propone il futuro vi dico già la butto lì che probabilmente sotto natale fareò una live di gioco di gaming visto che ogni tanto facciamo anche qualche gaming ovviamente a tema romano però non vi dico nient'altro e vi aggiorneremo pian piano con le date e con gli argomenti abbiamo concluso questo giretto nella nella repubblica chissà se prossimamente parleremo di impero o di altre cose anzi diteci anche un po' voi di cosa vorreste sentire di cosa vorreste sentire parlare vi auguro una buonissima notte a tutti quanti e ci vediamo presto su questo canale grazie a tutti